ciao fantastici ciao fantastiche come state tutto bene ragazzi era ora che io facessi questo video su kviccia kvaraschelia mi sono anche imparato a dirlo non era facile all'inizio adesso con un po di allenamento mi sono aiutato a pronunciare questo nome difficilissimo all'inizio ma parliamo di un campione ragazzi sì diciamolo è un campione uno un calciatore che potrebbe arrivare ai livelli massimali ai livelli all'ennesima potenza di cristiano nonaldo di messi perché no ragazzi stiamo vedendo delle giocate assurde e parliamo di un ragazzo giovanissimo se non erro a poco più di è del 2001 del 2001 ragazzi potrebbe essere mio figlio mamma mia che calciatore adesso ne andremo a parlare più approfonditamente ma intanto ti invito a supportare questo video con un bel mi piace con un bel like ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto se non mi conosci mi chiamo enrico caffarelli tratto calcio solo ed esclusivamente calcio lo sport più bello del mondo secondo me seguimi anche su instagram se ti fa piacere attiva la campanellina per non perderti nessuno dei miei video ragazzi e ragazze perché io leggo anche i commenti delle ragazze quindi non voglio fare diversità parliamo di questo giocatore che è stato un'autentica sorpresa per chi non lo conoscevo ovviamente ma gli addetti ai lavori puntavano su di lui e sapevano che sotto mano avevano un potenziale crack l'hanno preso dal dalla giorgia dal ruby kazan se non erro un calciatore che è stato premiato come il migliore della serie a in assoluto meritatissimo nove presenze in champions league di cui due gol e quattro assist trenta presenze in campionato di cui dodici gol e dieci assist quindi stiamo parlando e la fa mettere dentro ad altri e mi ricorda grandissimi calciatori che hanno calcato anche la maglia che hanno avuto la maglia giallorossa uno fra tutti francesco totti che se avesse passato non avesse passato la palla a molti altri dei suoi compagni a quest'ora avrebbe avuto molti più gol però quello fa parte anche del grande campione e qua la schelia lo potrà diventare uno dei più forti della storia le sue caratteristiche sono appunto i passaggi chiave e i passaggi filtranti la finalizzazione soprattutto il dribbling manco a dirlo sembra uno che fa lo slalom sugli sci quando quando ha la palla al piede e vuole seminare il panico tra le difese avversarie ma anche che parla a tirare da lontano a una pezza a roma si dice così scusate se uso questo termine a una bomba incredibile quando la incoccia bene i passaggi l'abbiamo detto all'inizio e la sua e le sue caratteristiche oltre a quelle di squadra sono i tagli verso il centro come si insinua lui incune a lui nelle difese avversari partendo dai laterali e arrivando in mezzo non lo fa pochi me ne ricordo mi ricordo del piero e ecco cristiano nonardo e pochi altri poi gioca la palla corta sui compagni ma anche in corsa la sa mettere anche bene sul piede del compagno del gioco e appunto ragazzi il dribbling è la sua arma migliore con la palla al piede è difficilissimo toglierla migliore della serie a in assoluto anche secondo me ha anzi voglio sapere anche la tua se per te è stato il migliore quest'anno serie a 2022 2023 tifosi del napoli anche non tifosi del napoli amanti di questo sport ditemi se secondo te che stai guardando a te è appunto qui c'è la raschelia il migliore della serie a qua sotto nei commenti voglio la vostra però ovvio ovvio che il napoli lo vuole preservare lo vuole lo vuole lo vuole far rimanere vuole non vuole avere contraccolpi dal calcio mercato perché gli hanno messo gli occhi un po tutti come 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 non farlo ragazzi come non farlo e quindi il manager di cavara schelia ha citato ha menzionato queste parole noi e il club vogliamo trovare un accordo ed andare avanti con napoli andiamo nello specifico e dice c'è la volontà comune di trovare un accordo migliorare il contratto di quiccia come lo dico bene quiccia mi sono proprio imparato a dirlo e andare avanti insieme la le parole di mamuca yugeli o yugeli spero di averlo detto bene sarebbe il procuratore di di quaraschelia ai microfoni di geo team il popolo appunto nerazzurro adesso ha paura di perdere kim perché ha una clausola recessoria potrebbe essere esercitata così dicono dal manchester united nella finestra consentita e perciò quaraschelia è tutto per il napoli insieme a dosi man e tutti gli altri però parliamo di giocatori simbolo e il giocatore e il manager appunto anche ulteriormente detto il primo anno è stato positivo spero che il secondo sia anche migliore quara diventerà il più forte e secondo me no non ho detto il più forte diventerà più forte perché è differente la cosa poi per quanto riguarda il prolungamento del contratto e i primi passi sono stati fatti da giuntoli e il suo staff a ridosso di natale un secondo round con dell'aurentis il 17 aprile e anche la scorsa settimana la storia è ben avviata e il finale a questo punto sembra scontato quara ha un rapporto lungo con il napoli ma ci sarà una crescita noi e la società abbiamo intenzione di trovare un accordo e di consentire al calciatore di continuare in azzurro con un contratto migliorativo per la precisione quaraschelli è legato al napoli fino al 2027 il contratto che adesso in essere e ha un ingaggio di 1,4 milioni a stagione più bonus dovrebbe essere prolungato fino al 2028 e da qui il mio titolo in copertina con uno stipendio notevolmente superiore 2,5 milioni più bonus comunque entro i limiti stabiliti da dell'aurentis che sono 3,5 a stagione quindi si prepara il rinnovo per questo aspirante futuro fenomeno dico futuro fenomeno perché ha tantissimi margini di miglioramento ragazzi fatemelo dire è stata la sua prima annata secondo me sono d'accordo col suo procuratore può soltanto che migliorare e quindi il napoli lo deve blindare assolutamente da qualsiasi attacco attacco esterno da lo sappiamo tutti no dai vari real madrid dai vari pari san germen dalle squadre della premier league dal bayern monaco potrebbe essere visionato ma anche suonato una bella una bella sviolinata da qualche da qualche presidente che gli fa sentire il profumo dei soldi ma tanti soldi quelli veri e ovviamente non avendo un contratto prolungato con un ingaggio migliorato sappiamo tutti che i soldi fanno gola chi 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 rinuncia ai soldi oggi come oggi è nessuno secondo me nessuno e quindi anche coraschelia è ben contento di prolungare il suo contratto con il napoli avendo una maggiorazione scrivimi qua sotto se è stato anche per te il giocatore in assoluto migliore della serie a se sei d'accordo con il prolungamento del contratto e dimmi anche se quale squadra difi se sei tifoso del napoli se sei tifoso della roma della juve a me farebbe molto piacere sapere per quale squadra appartenete a quale squadra fate il tifo anche se ho una vaga impressione ragazzi ci vediamo alla prossima lasciate un bel like a questo video un bel mi piace abbonatevi stavo dicendo se volete abbonatevi pure pure a me i soldi non è che mi fanno schifo iscrivetevi iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina e seguitemi su instagram link in descrizione che quest'estate ci divertiamo bombe di mercato e vediamo tutte le notizie ovviamente quelle più degne di nota di tutte le squadre italiane alla prossima ciao